Dall'aeroporto Ginolisa di Foggia si torna a volare. Il 2 aprile saranno presentati alla stampa nella sala giunta del Palazzo di Città i voli che a partire da venerdì 3 aprile collegheranno il capoluogo Dauno a Mostar in Bosnia, collegamenti aerei del tour operator G-Tours, che serviranno il vasto vaccino d'utenza riferito in particolare ai flussi turistici verso Meggiugorie. Un'iniziativa dall'importante valenza anche con riferimento alle procedure in campo relative al raggiungimento della piena operatività dello scalo della provincia di Foggia, anche in ragione dell'esercizio della sua funzione di continuità territoriale. Si legge in una nota dell'amministrazione comunale che ha scelto di sostenere l'iniziativa di G-Tours con un accordo di partneriato validato da una deliberazione della giunta, finalizzato a contribuire alle spese della campagna comunicativa e pubblicitaria dei nuovi voli. Grazie a tutti.